Qui si fa la storia dell'Europa, l'Europa muore. Chi dice che in Italia, come il quotidiano di Velt, ha la mafia che sta aspettando la pioggia di soldi dall'Unione Europea, dice stupidaggini, falsità, vergognosi, inaccettabili, perché l'Italia non sta aspettando proprio niente, la mafia la combattiamo, piangiamo le vittime della mafia, in Italia abbiamo fatto anche una legge anticorruzione poderosa, lo sapete perfettamente, e l'Italia è un paese serio, che paga le tasse, che risparmia, che fa cose importanti e non siamo certamente degli spendacioni o degli spreconi come qualcuno in Europa vuole far credere. Questo significa che in Europa dobbiamo fare la rivoluzione, che in Europa dobbiamo fare la storia, la storia la si fa stando uniti, la storia la si fa aiutando tutti, perché sapete bene che se va a gambe per aria anche uno solo dei paesi dell'Unione Europea, vanno a gambe per aria tutti, perché le economie sono interconnesse, perché la Germania esporta tante in Europa e se i cittadini europei non comprano più le loro macchine, i loro prodotti, va a gambe per aria anche la Germania. Quindi no stupidaggini, no falsità, no cose vergognose che speriamo vengano prese le distanze anche dal governo tedesco e sì alle cose serie, sì alla solidarietà, sì agli aiuti. Quale è l'Europa dell'austerità? Mi pare che abbia già fallito e probabilmente questo è l'ultimo tempo, l'ultima chance di questa Europa. E fa bene Conte a dire che questo è il momento di trasformare l'Europa, altrimenti l'Europa è finita, c'era già andata vicina alla fine ed ora penso che possa fare molto meglio imparando dal passato, imparando dagli eroi ed è questo che stiamo facendo in Europa ed è questa la lotta che stiamo portando avanti. No mess, sì Eurobond, lo dicevamo anni fa, lo diciamo adesso, non ci siamo rimangiati la parola, lottiamo, lottiamo e teniamo alto gli interessi degli italiani che significa anche tenere alto l'interesse dell'Europa per tenerla in vita ma molto meglio di prima, Europa solidale e non dell'austerità dove gli egoismi prevalgono sugli altruismi.